Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Ma lei aveva la soluzione. Per risolvere il problema in modo strutturale. Una produzione My Fiction. Bochette d'Argento, il festival di porti chiusi Giuseppe Conte. Il premio Best Karaoke e Culture Awards Matteo Salvini. Liban d'Arabia 2022-2023 di Matteo Renzi. Per la prima volta in un ruolo da protagonista Matteo Calenda. Io. E l'annuncio di una donna. Voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Che ha commosso le Nazioni Unite. Sarete trattenuti ed impatriati. Un'esclusiva My Africa. Stat away. Prossimamente, My Uno.